Ciao, sono Hassan. In arte Hassansky vi porto nella mia arte. La prima parte, questo spazio, è dedicato ai collage, ai miei collage che sono il risultato di quattro anni di lavoro e ricerca. Fondamentalmente sono paesaggi, paesaggio urbano, paesaggio naturale e così via. Questo spazio, sempre spazio MAV, sono le tele, i colori a olio, alcuni risultati dei collage, ripresi dal collage, una reinterpretazione. Sono di nuovo i paesaggi, urbani e non, alcuni quadri, alcune tele, sono ancora presenti gli alberi, gli alberi che nelle precedenti mostre erano più presenti, attualmente un po' di meno, perché ci sono forme più geometriche, più e rastavatti.